Ricordare in maniera perpetua i pompieri che hanno perso la vita mentre erano in servizio in centro a Catania. A Palazzo degli Elefanti il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Castiglione, ha ribadito il suo impegno per intitolare uno spazio della città. Per la rappresentanza sindacale sentiamo Carmelo Barbagallo. Secondo la nostra organizzazione sindacale, anche da parte dell'amministrazione comunale, sembra giusto un ricordo indelebile di questi colleghi che hanno sacrificato, ripeto, la loro vita per la popolazione e per il soccorso tecnico agente. Oltre a questo abbiamo precisato che siamo veramente lieti di ricevere la candelola d'oro, il segnimento maggiore che possa essere consegnato dal comune di Catania ai Vigili del Fogo. Uno spazio di Catania per ricordare i tre pompieri che hanno perso la vita mentre erano al lavoro nel centro della città. A Palazzo degli Elefanti incontro con il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Castiglione, che si è impegnato in questa direzione. Per la rappresentanza sindacale sentiamo Carmelo Barbagallo. Tramite il presidente del Consiglio Comunale, dopo un'intervista comincerà a discutersi questa richiesta che abbiamo inoltrato al comune di Catania per intitolare una via o delle piazze ai colleghi che hanno perso la vita in servizio, ricordiamo i nomi, Vincenzo Lima, Giorgio Grammatico e Danio Conti, che hanno sacrificato la loro vita per portare soccorso alla popolazione. Individuato